Sta per succedere, sto per fare le unghie più lunghe di TikTok Italia Regà sta per succedere, lo sto per fare Sto per mettere tutto nel fornetto Oddio ma brucia, brucia, brucia Regà voi non potete capire cosa trash sta succedendo qua dentro Cosa stai per fare? Oh, oh, oh my god, oh mio dio Regà questa è un'emozione e sensazione brutta Sono lunghissime di TikTok Italia Questa è la mia lunghezza in confronto a quella di Marty No, assurdo Rispetto Pavone Raga, mogne, mogne mio Ci sono arrivato un milione?